Ciao a tutti, modelli linguistici seduttivi. In questo video voglio parlarti di quelli che sono i modelli linguistici seduttivi, modelli di seduzione che noi possiamo utilizzare nella nostra vita per sedurre, per conquistare. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tarmasco. Ti ricordo che sul canale puoi abbonarti, abbonandoti potrai scegliere, potrai farmi delle domande alle quali io darò delle risposte precise. E adesso vediamo ai modelli linguistici seduttivi. Allora, quali sono i modelli linguistici seduttivi? Allora, vi sono diversi modelli linguistici che sono stati ideati dalla programmazione neurolinguistica. Allora, il primo modello linguistico seduttivo è quello legato al ricalco e alla guida. Vuol dire ricalcare un'esperienza oggettiva della persona e aggiungerci qualcosa che in realtà non è legato a quello. Ad esempio potrei dire, ma ti è mai capitato mentre ascolti un uomo o una donna, insomma, chi sei, e lo guardi negli occhi di provare un intenso desiderio d'amore? Ecco, io ti sto descrivendo un'esperienza, tu mi stai ascoltando, mi stai guardando e ti sto dicendo e provi un intenso desiderio d'amore. Ecco, questo è un qualcosa di interessante perché una persona tende a percepire la seconda parte come vera, perché ho creato un'area di truismi affermativi. Altra situazione che si manifesta, altro modello linguistico seduttivo è quello della lettura del pensiero o legge lo stato d'animo che sia davanti. Questo serve per procurare emozioni, ad esempio, potrei dirti una frase del tipo Secondo me hai vissuto una sofferenza nel passato che ti fa ancora soffrire moltissimo in amore. Ecco, questo è un altro modello linguistico che io posso utilizzare e che in qualche modo ti condiziona. Ti condiziona per il semplice fatto che non sai, ad esempio, non ti stai rendendo conto del fatto che in qualche modo ti sto condizionando attraverso una frase, sto inventando qualcosa, ma tu andrai a recepire delle emozioni, andrai a recepire delle emozioni e questo ti farà coinvolgere. Un altro modello comunicativo seduttivo è quello del doppio legame. Il doppio legame io ti dico qualcosa, diciamo, come se fosse un qualcosa di positivo per te, ma ti faccio un'offerta, ti regalo qualcosa, ma in realtà presuppongo un'altra cosa di fondo. Ah, guarda, sono proprio contento che tu hai vinto questa cosa, sono proprio contento che sei contenta, dai, ti invito per forza ad uscire fuori domani sera. Oppure potrei anche dirti in doppio legame, dai, preferisci domani sera o venerdì sera, che andiamo a berci qualcosa. Un'altra modalità è quello delle tag question, cioè delle domande in cui tu chiedi un'affermazione. Ad esempio, che ne dici domani sera, sarà bello andare al ristorante domani, cosa ne pensi? Quest'ultima domanda finale, il cosa ne pensi, oppure vero, oppure che ne dici, che ne pensi? Sono tutte delle situazioni che ti spingono a dire di sì, anche quando probabilmente forse non vorresti dire. E poi ci sono i quantificatori universali, sempre, mai. Posso garantirti che sarai sempre nel mio cuore e che non ci lasceremo mai. Questi sono i qualificatori universali, sempre, mai, che ovviamente non esistono, però fanno colpo sul soggetto. E poi anche le relazioni di causa-effetto. Quando ci vedremo di persona, sarai molto più felice. Sto creando una congiunzione causa-effetto che non ha molto, molto, molto senso. Un'altra cosa è quello delle equivalenze complesse. Ah, beh, dai, sono certo che se deciderai di uscire con me, dimostrerai di essere molto intelligente. E quindi vado anche qua a creare un'equivalenza complessa tra uscire con me ed essere molto intelligente. Un'altra equivalenza semplice è con il fattore E. La E è una congiunzione che, ad esempio, potrei dire... Ah, vedo che mi ascolti e immagino che sarai contenta di uscire con me. Anche qua creo una congiunzione tra due cose che in realtà non c'entrano assolutamente a nulla. E poi i predicati, i presupposti di realtà, i presupposti comunicativi. Mi chiedo se hai già deciso quando usciremo assieme. Ti do l'idea che tu devi decidere. In realtà la domanda te la faccio su quando hai deciso di uscire assieme. Quindi il presupposto è che usciamo assieme. Ecco, questi sono tutti i modelli che si possono utilizzare nel... Che utilizza la PNL come mezzi di comunicazione seduttiva. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. E abbonandoti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte. Ciao a tutti.